Un detenuto con gravi problemi psichiatrici, classificato di media sicurezza, rientrato nel carcere di Corigliano Rossano dopo una settimana di ricovero in ospedale per un trattamento sanitario obbligatorio, ha aggredito due agenti della Polizia Penitenziaria e quanto riferiscono Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del SAPE, e Francesco Ciccone, segretario regionale del sindacato. Il fatto, aggiungono Durante e Ciccone, è avvenuto quando il detenuto stava uscendo dalla cella per andare ai passeggi. Uno degli agenti aggrediti ha riportato ferite sul braccio sinistro, al petto e al collo, con segni di probabile strangolamento. A causa della carenza di personale, gli agenti non sono andati in ospedale e dopo le cure ricevute nella locale infermeria, sono rimasti in servizio.